Prima Totò, adesso Raffaele, ossia da un governatore all'altro, all'ombra inquietante dei palazzi del potere palermitano. L'ex presidente della regione Lombardo è stata infatti condannata a sei anni e otto mesi di reclusione, condanna arrivata per concorsi esterni in associazione mafiosa in quanto avrebbe di fatto favorito il clan Santa Paola. L'accusa aveva chiesto dieci anni di reclusione. Me l'aspettavo, ha detto Lombardo, il giudice non poteva sfidare i poteri che mi volevano colpevole. Il fratello di Lombardo invece, Angelo, è stato rinviato a giudizio. Sullo sfondo della sentenza, una sorta di maledizione che sembra ormai avere avviluppato Palazzo d'Orleans, i precedenti infatti parlano chiaro e in principio fu Giuseppe Provenzano condannata a tre anni per peculato, seguito dal modicano Giuseppe Drago, anche gli accusato dello stesso reato. Quindi è toccata a Vincenzo Leanza, rinviata a giudizio per truffa, e Cerchio, che si era chiuso con Totò Cuffaro, condannata a sette anni di reclusione per associazione mafiosa. Una scia di guai giudiziari lunghissima che si è conclusa ieri quando il RAS autonomista si è vista sbattere in faccia la condanna, una sentenza che forse chiude una pagina ma tiene sempre aperta la questione morale alla luce della recentissima inchiesta sulle spese folli dei gruppi parlamentari a Lars.